Benvenuti ragazzi, ben ritrovati sul canale di Tagliando e Traforando, io sono Leo e oggi vi farò vedere un'altra guida sempre col Coral Draw, io sto usando la versione del 2019 di come realizzare questa casetta porta buste, secondo me è quella che viene utilizzata per i matrimoni dove tutti gli invitati mettono la busta dei soldi di regalo per gli sposi allora, iniziamo con dire che è un file che ho trovato su internet, quindi non è di mia proprietà ma è di proprietà di qualcun altro ed è fatta bene, come vedete nella foto è stata realizzata a laser però abbiamo anche il disegno, bello e pronto, da poter tagliare al traforo in questa guida cercheremo di capire che misure hanno gli incastri come faccio a capire che misure hanno e che tipo di spessore devo utilizzare quindi siete pronti? Ah, un attimo, se non l'avete fatto iscrivetevi al canale e lasciate un like mi raccomando, allora, siete pronti? Iniziamo bene, dopo questa piccola sosta andiamo a vedere come è composto il nostro disegno abbiamo una base con tutti i rettangolini che sono gli incastri delle quattro pareti della nostra cassetta cerchiamo di capire di che misura sono fatti, che legno devo utilizzare, che spessore per far questo ci occorre questo strumento qui, quota parallela allora, perché lo spessore si misura qui in verticale andremo a tracciare una linea da uno spessore all'altro e tiriamo la quota parallela come vedete il programma mi dice che la quota parallela sono 4 mm quindi dovremo utilizzare uno spessore di 4 mm il disegno è già bello e pronto utilizzeremo lo spessore di 4 mm e tutto sarà più facile e possibile da realizzare allora, la domanda che poi in tanti mi fanno Leo, però io lo spessore da 4 mm non lo riesco a recuperare spesso e volentieri nei brico trovo sempre il multistrato da 5 mm come faccio ad adattarlo? allora, la risposta ragazzi è semplicissima vi faccio vedere come adattare ai 4 mm uno spessore di 5 mm consideriamo che tutti questi buchi qui, questi fori sono le femmine e questi sono i maschi quindi gli incastri consideriamo che sono fatti tutti da 5 mm quindi dovremo andare a cambiare solo le femmine poiché queste sono da 4 mm cosa andremo a fare? andremo a prima di tutto questo è un disegno unico come vedete quando lo sposto si sposta tutto insieme andiamo a separare gli oggetti quindi tasto destro separa tutto dopodiché andremo a modificare le dimensioni solo delle femmine cioè tutti questi rettangolini questi tre questi fori qui questo questo spessore qui sono tutti incastri che ci serviranno mentre tutte queste qui le femmine non ci serviranno per il momento ok? dopo aver separato tutto andremo a cliccare nuovamente il tasto destro e fare dividi curvilineo che è successo? che per ogni pezzo disegnato abbiamo notevolmente separato tutti i dettagli attorno quindi se io vado a selezionare ogni rettangolino è un rettangolino singolo posso spostarlo a mio piacimento guardate vedete? posso metterlo dove voglio noi dobbiamo fare altro che cambiare la sua dimensione vedete? qui è 4.26 quindi ci facciamo 5.26 lo allarghiamo di un millimetro la stessa cosa vale per questo 5.26 e così per tutti quanti stessa cosa andremo a fare per questi qui tasto destro dividi curvilineo andiamo a selezionare il rettangolo questa volta è la larghezza 4.15 noi facciamo 5.15 ok? stessa cosa 4.22 ci mettiamo 5.22 5.22 adesso andiamo a selezionare a modificare i cerchietti questi cerchietti qui li andremo ad aumentare di dimensione dividi curvilineo selezioniamo il cerchio questo è 5.8 e noi faremo 6.8 e lasceremo anche sotto 6.8 ok? qua invece dovremmo fare così sicuramente qui avremo i 4 mm vediamo un po' tiriamo la quota parallela effettivamente abbiamo 4 mm lì non ci sta quindi dobbiamo allargarci di mezzo millimetro a destra e mezzo millimetro a sinistra per poter avere uno spessore di 5 mm come facciamo? selezioniamo questo strumento qui andiamo a selezionare il nostro dettaglio e ci spostiamo di ecco qua di qualche millimetro andiamo a tirare di nuovo la quota parallela e vediamo questa volta quant'è 4.25 dobbiamo arrivare a 5 quindi ci conviene fare una linea di 5 mm linea dei punti la facciamo di 5 mm la portiamo qui al centro e quando andremo a modificare il nostro incastro lo faremo secondo le linee guida adesso abbiamo avuto abbiamo ottenuto un incastro di 5 mm andiamo a tirare la quota parallela da un bordo all'altro siamo 4.99 ci siamo avvicinati di pochino va bene ragazzi e così si andrà a fare per tutti i pezzi ovviamente non lo ripetete per tutti una volta fatto questo pezzo qui per esempio una volta fatto questo pezzo qui fate ctrl G lo riunite lo sdoppiate con ctrl D e lo riflettete e praticamente avete la copia esatta non c'è bisogno di andarlo a fare due volte e questo si può cancellare semplice no? bene detto ciò una volta che ci siamo regolati con tutte le misure potremmo fare come vi ho insegnato negli altri video andare a spostare pezzo per pezzo pagina per pagina crearsi delle pagine e andarseli a copiare sugli altri pagine non vi sto a ripetere le procedure magari vi metto il link qui su in descrizione in modo tale che potete andare a recuperare quel video di come si dividono i dettagli e potete sistemare nelle pagine e stamparlo in pdf ragazzi spero che anche questa guida vi sia stata utile vi ringrazio di cuore siete tantissimi il gruppo ha superato 5500 membri vuol dire che sta funzionando qualcosa si sta muovendo però siete in pochi iscritti al canale e se i video vi sono di vostro gradimento iscrivetevi al canale per voi è nulla per me invece è tanto significa tanto così facendo riesco a motivarmi ancora di più a creare nuovi video guide e aiutarvi sempre nella progettazione di nuovi disegni io vi saluto e ci rivediamo nel prossimo video